ciao sono linus e volevo ricordarvi che è nata time to love una onlus che sostiene progetti importanti in tutto il mondo con attenzione in particolare al mondo dei bambini e delle donne volevo però ricordarvi anche un'altra cosa e cioè che il 10 di settembre al palabanco di brescia ci sarà una grande serata per raccolta fondi con musica grandi personaggi cantanti i migliori dj d'italia tipo me ci vediamo a settembre il 10 grazie